Muoversi. Infomobilità in Campania. Chiude lo svincolo Capodichino in uscita in direzione della tangenziale di Napoli. Sulla statale Settebis Terra di Lavoro, sino all'11 agosto, è attivo un restringimento di carreggiata tra Villaliterno e Nola in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Salerno, sino all'11 agosto, esclusi giorni festivi e prefestivi, è ridotta la carreggiata nella fascia oraria 6-18 tra zona industriale Ponte Cagnano in tratti saltuari. E sempre sulla tangenziale di Salerno, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, riduzione di carreggiata tra le uscite fratte e zona industriale in tratti saltuari. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza.